Il comando dei vigili del fuoco di Treviso ha adottato sei alberi. Nell'abito del progetto Adotta un albero sono stati regalati alla città 400 alberi. Non ci fermeremo, promette l'assessore Alessandro Manera, che porta a casa un altro primato con il lavoro del suo assessorato. Un sesto posto, il risultato migliore mai raggiunto dalla città nel rapporto annuale ecosistema urbano 2022. Treviso premiata per i dati sulla raccolta differenziata e sulle piste ciclabili, ma per salvare il pianeta bisogna partire dalle case. Gli impianti termici per il riscaldamento degli edifici inquinano fino a sei volte in più dei trasporti su strada. I dati sono stati elaborati da uno studio del Politecnico di Milano. Con due bandi il Comune ha finanziato la sostituzione di 287 caldaie fino ad oggi. Il prossimo bando potrebbe uscire già a gennaio. I bandi sono stati completamente riempiti, abbiamo dato via tutti i soldi e forse riproporremo questo bando perché è molto richiesto. Questo vuol dire che l'operazione, pur considerando il 110%, è stata molto apprezzata ai cittadini e sono state cambiate tutte caldaie molto vecchie.